Benvenuti! Oggi mi trovo a Macomere, più precisamente alla stazione, per fare una passeggiata tra antico e moderno. Mi trovo sotto la pensilina Liberty e adesso vi farò vedere l'albergo che è stato costruito nel 1880 per volere di un certo persi. Alla mia spalla si può vedere l'ex albergo delle ferrovie che è stato progettato nel 1880 dall'ingegnere inglese Benjamin Percy, lo stesso che progettò numerosi tratti delle ferrovie della Sardegna. Come si può ben vedere, adesso l'albergo è abbandonato. Fu utilizzato fino agli anni 70, successivamente addibito a messa per i ferrovieri e ha chiuso definitivamente i suoi battenti nel 94. Questo è l'ingresso principale dell'albergo che purtroppo è stato chiuso con questi orrendi infissi in alluminio. Grazie a tutti. Adesso mi trovo all'interno della struttura e più precisamente nelle cucine dove venivano preparati i pasti per i ferrovieri. E adesso saliamo ai piani superiori. Mi trovo in una delle stanze da letto e sul soffitto si può vedere quel che rimane dei decori. Adesso mi trovo all'ultimo piano di questo albergo abbandonato e qui sopra, come si può ben vedere, ci sono le prese di luce del tetto. Adesso mi trovo all'ultimo piano di questo albergo abbandonato e qui sopra, come si può ben vedere, ci sono le prese di luce del tetto. Adesso sono arrivato all'agriturismo Montiferru e finalmente si mangia. Se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un like che aiuta sempre. Vi ricordo anche di iscrivervi al canale tramite il cerchietto qui in alto a destra. Vi ricordo anche di seguirmi sul mio account Instagram, luigis__channel. E niente, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!